Super Green Pass, via le nuove regole, gela da oggi in arancione, mentre in città scatta da oggi la zona arancione, nel resto del paese entrano in vigore regole sul pass rafforzato su tutti i mezzi pubblici e nei locali, anche all'aperto. Già operativo anche l'obbligo vaccinale per gli over 50, ma le sanzioni una tantum scatteranno a partire dal 1 febbraio. Per i gelesi non vaccinati o guariti in zona arancione non sarà possibile uscire dal proprio comune di residenza se non per motivi di lavoro, necessità e salute. Sempre in arancione, obbligo di Green Pass rafforzato per il servizio di ristorazione all'aperto e al chiuso. Super Green Pass, tutela o discriminazione, da oggi il Super Green Pass diventa obbligatorio anche per usufruire dei servizi all'esterno, presso i bar, ristoranti, pizzerie, ma anche palestre, centri benessere, sale giochi, scommesse e trasporti. Scuole e contagi si va verso la DAD, al momento niente screening, mentre la linea del contagio cresce a dismisura. Regione Asp e sindaci stanno valutando le modalità del rientro a scuola. Mercoledì ci sarà una nuova riunione, al momento però l'orientamento sembra essere quello di un possibile rientro in DAD. Ipotesi suffragata dal fatto che al momento non sarebbe previsto alcuno screening per la popolazione scolastica, come conferma il direttore generale dell'Asp, Alessandro Caltagirone. Droga e un microtelefono a Balato, un indagato, un cittadino bulgaro, 29 anni, è indagato per aver introdotto nel carcere di Balato un microtelefono e dosi di hashish e cocaina. Tutto è stato sequestrato dopo che gli agenti della penitenziaria hanno trovato il microtelefono e la droga nel corso di una perquisizione. Montelungo, definito il nuovo regolamento, la Commissione Affari Generali ha concluso il lavoro sul nuovo regolamento del Parco di Montelungo, volto a rilanciare l'interarea anche sulla scorta del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno, che ammonta 5 milioni di euro. L'atto va verso il Consiglio Comunale per l'approvazione. Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. Mentre in città scatta da oggi la zona arancione, nel resto del paese entrano in vigore le regole sul pass rafforzato su tutti i mezzi pubblici e nei locali, anche all'aperto. Già operativo anche l'obbligo vaccinale per gli over 50, ma le sanzioni, una tantum, scatteranno a partire dal primo febbraio. Per i gelessi non vaccinati o guariti in zona arancione non sarà possibile uscire dal proprio comune di residenza, se non per motivi di lavoro, necessità e salute. Sempre in arancione, obbligo di green pass rafforzato per il servizio di ristorazione all'aperto e al chiuso. A quasi due anni dal primo caso ufficiale di Covid in Italia si continua ancora a cercare un modo per arginare il contagio. Sul piano della lotta al virus oggi, 10 gennaio 2022, è comunque una data da segnare nel calendario perché dal via a una piccola rivoluzione che, inutile negarlo, stringe sempre di più il cerchio intorno ai non vaccinati. Da oggi, infatti, in tutta Italia cambiano le norme per il green pass e quelle per ricevere la terza dose di vaccino anti-Covid, mentre dall'8 gennaio è già entrato in vigore l'obbligo vaccinale per gli over 50 che scadrà il 15 giugno. Ma andiamo con ordine, la prima data chiave è quella di oggi. A partire dalla mezzanotte del 10, infatti, si riduce a quattro mesi la distanza temporale per ricevere la terza dose del vaccino anti-Covid, mentre la necessità del super green pass si estende per accedere ai trasporti pubblici locali, per il servizio di bancone al bar, per i ristoranti anche all'aperto, per gli alberghi e i centri benessere. E il certificato rafforzato servirà anche per piscine, centri sportivi e palestre, alberghi, impianti a sci e musei. Nella stretta anche feste, sagre e centri culturali e ricreativi anche all'aperto. Intanto, da ieri è entrato in vigore anche l'obbligo vaccinale per gli over 50. Il decreto specifica che sono obbligate all'immunizzazione i soggetti che hanno compiuto il cinquantesimo anno d'età, che alla data del 1 febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario, quelli che a decorrere dal 1 febbraio 2022 non abbiano ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale, e infine quelli che a decorrere dal 1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo. Dal 1 febbraio inoltre scattano le sanzioni da 100 euro una tantum per gli over 50 non vaccinati. I controlli saranno demandati all'Agenzia delle Entrate, che effettuerà incroci tra i dati alla tessera sanitaria e dell'anagrafe. Per quella data si riduce anche la validità del Green Pass a sei mesi. Ci vorrà anche il Green Pass base per entrare in tutti i negozi ed eccezione degli alimentari, delle farmacie e dei tabacchi. Il decreto prevede l'estensione dell'obbligo di Green Pass base, ossia da avere anche con tampone negativo, per l'accesso a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, da individuare con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Dal 20 gennaio invece scatta l'obbligo di Green Pass base per andare dal parrucchiere, dal barbiere e nei centri commerciali. Un'altra data chiave è quella del 15 febbraio. Da quel giorno scatta l'obbligo di presentazione del Super Green Pass nei luoghi di lavoro. Gli over 50 che non lo hanno saranno considerati assenti ingiustificati, ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. L'obbligo durerà fino al 15 giugno 2022. Chi non ha il Green Pass non riceverà la retribuzione. Sempre da oggi, intanto, in città scatta la zona arancione. Al contrario della zona gialla, in arancione serve il certificato rafforzato per il ristorante anche all'aperto, le piscine, le palestre, le feste dopo le cerimonie, i centri culturali e ricreativi anche all'aperto. Novità di non poco conto, in arancione ci vuole il Super Green Pass per accedere nei centri commerciali, nei festivi e nei prefestivi. Chi non è vaccinato o guarito, inoltre, in arancione non può uscire dal proprio comune di residenza, se non per motivi di lavoro, necessità o salute, o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune. Sempre in arancione, obbligo di Green Pass rafforzato per il servizio di ristorazione all'aperto e al chiuso e per chi alloggia nelle strutture alberghiere e per gli esterni. Rimane sempre concessa l'attività sportiva all'aperto anche in zona arancione. E diamo uno sguardo al consueto Covid Report. I numeri del contagio da Covid in città non smettono di preoccupare. Nelle ultime 24 ore altri 452 positivi in isolamento domiciliare. I guariti sono 61. La curva si avvicina a 4.000 contagi. Sono 3.811. Sale anche la pressione sulle strutture sanitarie locali. Si sono registrati 5 ricoveri in degenza ordinaria e 3 pazienti invece sono stati dimessi. Purtroppo ASP comunica anche altri due decessi di pazienti gelesi positivi al Covid. In totale sono 106. Morto anche un paziente di niscemi. Come abbiamo detto da oggi il Green Pass diventa obbligatorio anche per usufruire dei servizi all'esterno presso bar, ristoranti, pizzerie ma anche palestre, centri, benessere, sale, gioche, scommesse e trasporti. Dal 20 gennaio la certificazione verde sarà necessaria anche per andare dal parrucchiere ed estetista mentre dal 1 febbraio regolerà anche l'accesso agli uffici pubblici. Molti esercenti locali si sentono penalizzati da norme restrittive che incidono negativamente sugli incassi e che riguardano alcune categorie piuttosto che altre. Oggi abbiamo raccolto alcuni pareri. Sentiamo. Parte da oggi la stretta sulla certificazione verde rafforzata. Le nuove misure annunciate dal governo Draghi lo scorso 24 dicembre prevedono l'estensione delle categorie commerciali in cui sarà possibile accedere solo in possesso del tanto dibattuto Super Green Pass. Alcune categorie si sentono penalizzate rispetto ad altre. Il Green Pass a molti utenti non piace e il numero dei clienti in forte calo con la conseguenza di aggravare una già difficile situazione. Gli enti sono molto diminuiti perché molta gente ancora è contraria al Green Pass, qualcun altro ancora non l'ha stampato, qualcuno non riesce e così via. La legge sì va fatta, il vaccino va fatto, sono completamente d'accordo con la legge però è sbagliato che venga fatta tramite i gestori di bar, ristoranti, pizzerie o comunque di attività commerciale che non c'entriamo niente perché non siamo pubblici ufficiali al controllo. Quindi andrebbe fatta però in modo diverso. Qualcuno si rifiuta però viene servito fuori, giustamente viene servito solo ed esclusivamente da portare via perché non possiamo farli entrare all'interno del locale, neanche farli sedere e neanche al bancone. Ripeto, glielo facciamo in plastica, glielo portiamo fuori, da portare via. Quelle sono le leggi quindi ci dobbiamo rispettare anche perché ci sono sanzioni molto pesanti. Sì, devo dire di sì. Oggi abbiamo controllato tutte le persone che sono entrate e devo dire che hanno mostrato benevolenza nei confronti del gestore e non ho avuto nessun problema. Non sono d'accordo forse per la zona arancione perché la zona arancione è una zona un pochettino truffaldina nel senso che tu dici alle persone di non uscire però nello stesso tempo ci tieni aperti e la gente non c'è, quindi non consuma. Quindi già da due o tre giorni non c'è più gente in giro. Quindi io potrei o per una zona bianca o per una zona rossa perché questa zona arancione è solo una presa in giro perché ti tengono di stare aperti pagando tutte le bollette, le utenze e le cose però poi alla fine non ci sono incassi. La maggior parte di tutti ci hanno il Green Pass per poter accedere in questi locali anche perché qua al centro storico sono tutte gente adulta, gente anziana ci sono pochi giovani che magari i giovani non avranno il Green Pass ma questi anziani ce l'hanno tutti anche per paura di ammalarsi. Io ho il Green Pass perché reputo giusto e doveroso vaccinarci per noi e per gli altri chiaramente perché penso che questa è una brutta bestia che dobbiamo cercare di governare, di poter gestire. Quindi il Green Pass è una forma di tutela o una forma di discriminazione? No, io di fronte alla salute pubblica non ne vedo discriminazione. Non si lavora più, siamo fermi, siamo vittime di qualcosa che non ci appartiene. Non l'abbiamo creato noi il coronavirus. Barri e ristoranti, tabaccherie, lei in tabaccheria c'è entrata? Guarda che tutte le persone che sono là dentro non devono esibire Green Pass. Al supermercato non devono esibire Green Pass. Qual è la differenza tra noi e il supermercato? Il problema è che il Green Pass o è per tutti o per nessuno. O per tutti o per nessuno. Ma comunque il Green Pass al bancone per la persona che deve prendere un caffè e andarsene non ha senso. Siccome le leggi non le fa né il sindaco né il presidente Musumeci, le leggi le fa Draghi e contro Draghi non ci si sta mettendo nessuno. In conseguenza, io la chiamo, apro e chiudo virgolette, dittatura sanitaria. Cosa si potrà fare senza il vaccino o la guarigione da Covid? Lo stretto è indispensabile. Supermercati e farmacie, ad esempio, non sono contemplati dall'obbligo, mentre le chiese restano escluse da ogni provvedimento. Il rispetto delle norme sarà oggetto di accurati controlli. Solo nella scorsa settimana sono state 3.000 le persone controllate dalle forze dell'ordine e 486 le attività commerciali. Due sanzioni elevate per mancato possesso di Green Pass e 6 multe per mancato uso della mascherina. Nelle aree cittadine individuate dal piano prefettizio è stato attivato un rafforzamento dell'azione di controllo da parte di vigilanza e forze dell'ordine. Code attese di ore e pochissime indicazioni alla cittadella. L'attesa per i tamponi può davvero rivelarsi infinita. Anche questa mattina l'interazione è stata sostanzialmente intasata da vetture con utenti e famiglie che aspettano per effettuare tamponi e vaccini. I numeri del contagio in città corrono verso la soglia dei 4.000 e sarebbe necessario un rafforzamento ulteriore dei servizi preannunciato da ASP ma ancora oggi con pochi spiragli. E mentre la linea del contagio continua a crescere a dismisura Regione, ASP e Sindaci stanno valutando le modalità di rientro a scuola. Mercoledì ci sarà una nuova riunione. Al momento però l'orientamento sembra essere quello di un possibile ritorno alla DAD. ipotesi suffragata dal fatto che al momento non sarebbe previsto alcuno screening per la popolazione scolastica come conferma il direttore generale dell'ASP Alessandro Paltagirone. Mentre in città il contagio galoppa e il numero dei positivi si avvicina a quota 4.000 ASP e istituzioni stanno cercando di risolvere la questione rientro a scuola. Al momento la linea è quella di attendere l'evolversi della situazione del contagio in città e nel resto dell'isola. Anche se come confermato dallo stesso sindaco Lucio Greco l'orientamento al momento dovrebbe essere quello dell'attivazione della DAD almeno per le scuole della città dichiarata zona arancione per l'emergenza Covid. Proprio sabato il primo cittadino aveva comunicato l'intenzione di firmare l'ordinanza per l'attivazione della didattica a distanza nelle scuole ma il provvedimento è stato anticipato dal presidente della regione Nello Musumeci che ha ufficializzato per tutta la Sicilia la riapertura degli istituti il 13 gennaio in modo da verificare gli aspetti organizzativi necessari per far fronte all'esponenziale aumento dei contagi da Covid. Mercoledì è prevista un'altra riunione della task force regionale alla presenza degli assessori alla salute Ruggero Razzi all'istruzione Roberto Lagalla per confermare il rientro in classe o allungare ulteriormente il periodo di chiusura modificando quindi ulteriormente il calendario scolastico 2021-2022 sempre nel rispetto del numero minimo delle giornate. L'orientamento al momento sembra essere quello di un possibile rientro in DAD ipotesi suffragata dal fatto che al momento non sarebbe previsto alcuno screening per la popolazione scolastica come conferma il direttore generale dell'ASP Alessandro Caltagirone. Noi aspettiamo delle indicazioni a livello regionale perché è giusto che l'intera regione si muove allo stesso modo in tutte le scuole al momento non ci sono indicazioni per effettuare uno screening nelle scuole nello stesso tempo sapete che è stato fatto un differimento nell'inizio delle attività in presenza a giovedì però è ovvio che in questi giorni sicuramente ci potrebbero essere le novità anche per un'eventuale didattica a distanza ma ci affidiamo ovviamente ai provvedimenti regionali. Molto probabile che nella riunione di mercoledì considerata l'alta incidenza dei contagi in città sarà la stessa ASP a chiedere l'attivazione della didattica a distanza per Gela. Quando ci sono delle situazioni come quelle di Gela per siti ad alto rischio infettivo è verosimile che si attivi qualcosa però stiamo lavorando per capire se è corretto farlo e se è sicuro fare un provvedimento del genere. Sulla stessa linea anche l'amministrazione comunale con il sindaco pronto a firmare l'ordinanza già mercoledì pomeriggio come conferma l'assessore all'istruzione Nadia Gnoffo. Il differimento della didattica in presenza ci ha consentito di valutare ci consentirà di valutare al meglio l'evoluzione della situazione epidemiologica ma sicuramente i dati non sono confortanti la situazione è alquanto chiara il sindaco su questo ha già anticipato un provvedimento che va nella direzione di una didattica alternativa quale potrebbe essere la didattica a distanza. Sicuramente la nostra priorità è la didattica in presenza ma in questo momento le condizioni non ce lo consentono. Al momento i dati non sono confortanti sicuramente i dirigenti scolastici si troveranno in difficoltà a monitorare questa situazione, a gestire anche l'organizzazione della didattica. Ci sono tanti insegnanti, persone alleate, studenti che ad oggi sono in quarantena sono risultati positivi per cui capite bene che una didattica in presenza metterebbe in difficoltà i dirigenti e soprattutto non ci consentirebbe di garantire e tutelare la salute dei nostri ragazzi e dei nostri cittadini. Se quindi l'attivazione della didattica a distanza sembra ormai pressoché scontata si sta lavorando per tutelare quel personale scolastico che comunque dovrebbe continuare a frequentare gli istituti anche con la DAD. Nello specifico l'amministrazione chiederà uno screening dedicato per gli alunni con disabilità e per le loro insegnanti di sostegno che anche in DAD dovrebbero continuare con l'attività in presenza. Abbiamo già chiesto ad ASP di attenzionare questi soggetti più fragili e quindi magari garantire uno screening proprio agli insegnanti di sostegno che potranno in questo modo in tutta sicurezza poter svolgere il proprio compito a sostegno dei ragazzi, degli alunni disabili. E domani ancora niente mercato settimanale. A breve il sindaco Lucio Greco ufficializzerà la decisione con un'ordinanza rilasciata a seguito dell'aumento repentino dei contagi che ha portato a raggiungere quasi 4.000 positivi. I particolari verranno resti noti dal primo cittadino che continua a essere in contatto con ASP e Prefettura nel tentativo di arginare un contagio sempre più diffuso. Le organizzazioni degli ambulanti non concordano con la scelta hanno dichiarato lo stato di agitazione con un sit-in che è fissato per domani. I rappresentanti degli esercenti hanno prospettato ipotesi di ripartenza in sicurezza ma l'amministrazione comunale vuole evitare rischi soprattutto in questa fase di pieno contagio. La cronaca. Un cittadino bulgaro, 29enne, è indagato per aver introdotto nel carcere di Balate un microtelefono e droga, ascisce e cocaina. Tutto è stato sequestrato dopo che gli agenti della polizia penitenziaria hanno trovato il microtelefono e la droga nel corso di una perquisizione. Sentiamo. Le indagini sono in corso dopo che a fine anno all'interno della carcere di Balate un detenuto, 29enne, è stato trovato in possesso di un microtelefono cellulare di dosi di cocaina e ascisce. Il giovane cittadino bulgaro è detenuto nella casa circondariale e locale per scontare una condanna definitiva. Gli agenti della penitenziaria durante una perquisizione hanno trovato sia la droga che il microtelefono. Pare che il detenuto li avesse nascosti negli slip che indossava. È stato disposto il sequestro e i PM della procura hanno avviato indagini. Probabilmente si cercherà di capire come abbia fatto il 29enne ad avere la disponibilità del microtelefono, forse per tenere contatti con l'esterno e della droga. Sembrerebbe che fossero tutti in un involucro. Gli agenti della penitenziaria hanno effettuato il sequestro che è stato anche convalidato. Le verifiche sono in corso e le indagini sono coordinate dal PM Ubaldo Leo. Pare che non sia neanche esclusa l'ipotesi che dovessero essere consegnati ad altri. Verranno effettuate tutte le verifiche. Il detenuto avrebbe precedenti per droga. Anche la condanna definitiva, che si trova a scontare, abbalate e legata a reati in materia di sostanze stupefacenti. Assistito dall'avvocato Rocco Cutini, gli accertamenti sono partiti proprio durante alcuni controlli e addosso al detenuto sono stati trovati sia il microtelefono che la droga. Circa 250 milioni di euro attraverso una delle azioni del PNRR per valorizzare beni confiscati dalla criminalità organizzata. La segreteria confederale della CGL e quella provinciale della Fillea con i sindacalisti Rosanna Moncade e Francesco Cosca hanno scritto ai sindaci della provincia per un confronto che possa essere propedeutico a progetti da presentare proprio per cercare di rientrare tra quelli ammissibili al finanziamento. In città sono diversi beni confiscati ai clan che ancora oggi non sono stati assegnati né hanno avuto finalità sociale. Forza Italia ha tentativo per rilanciare i rapporti con Greco. Le nuove tensioni emerse nei rapporti tra il gruppo locale di Forza Italia e l'amministrazione comunale hanno aperto un confronto interno agli azzurri. Il coordinatore cittadino Vincenzo Pepe dopo giorni di forti contrasti dialettici col sindaco cerca di ricucire ma con condizioni politiche. Il dibattito interno al gruppo locale di Forza Italia non è concluso negli ultimi giorni. Ci sono stati incontri e interlocuzioni. Il caso si è riaperto a seguito della vicenda Gelas e delle posizioni degli azzurri molto critiche verso le mosse dell'amministrazione. Rimanere a supporto del progetto politico del sindaco Lucio Greco oppure valutare altre soluzioni senza escludere l'addio all'alleanza dell'avvocato. Sono sostanzialmente questi i dubbi più consistenti che vanno dipanati prima possibile. Il coordinatore cittadino di Forza Italia Vincenzo Pepe sembra voler smorzare le polemiche. Subito dopo la bagarre su Gelas ha contestato il sindaco e il suo modus operandi. Ora però anche a seguito delle interlocuzioni interne appare più incline al dialogo. La condizione politica però è chiara. Pepe infatti spiega che in questo momento è in corso un confronto interno al partito che porterà ad una crescita. Ci sono però delle priorità. Fra queste la necessità di contribuire di più all'efficienza dell'amministrazione comunale. Per questo chiede al sindaco un maggiore coinvolgimento dei consiglieri comunali. Proprio Pepe aveva parlato di consiglieri comunali azzurri, Luigi Di Dio e Carlo Romano, che non si sentono rappresentati da questa giunta. Il coordinatore inoltre conferma la piena fiducia del partito nei confronti dell'assessore Nadia Gnoffo, anche lei pienamente coinvolta nel dibattito interno al partito locale. Secondo Pepe, Gnoffo ha lavorato bene in questa amministrazione e ha saputo dare un grosso contributo all'aggiunta Greco. Più in generale, anche se non c'è ancora una vera conclusione del confronto interno al partito locale, il parlamentare regionale Michele Mancuso pare possa riuscire a ristabilire un certo film politico, anzitutto nei rapporti tra il partito e il sindaco Lucio Greco. Mancuso pare poter contare sul sostegno proprio del partito locale. Lo stesso Pepe parla della necessità del partito di coinvolgere tutti coloro che hanno contribuito al progetto anche per la supporto alla rielezione all'ARS proprio di Mancuso. Per ora l'eventuale bufera interna sembra scongiurata e forse taglia, salvo sconvolgimenti politici ulteriori, dovrebbe mantenere il patto con il sindaco Lucio Greco, anche se tanti punti rimangono ancora irrisolti, come il rapporto, che sostanzialmente non esiste, tra forzisti e altre anime dell'alleanza dell'Avvocato. Lo stesso sindaco ha spiegato invece che il coinvolgimento anche per i consiglieri di Forza Italia non è mai mancato. C'è la volontà quindi di collaborare e Greco esclude che le fibrillazioni interne al gruppo locale di Forza Italia possano avere effetti sugli equilibri dell'amministrazione comunale. La Commissione Affari Generali ha concluso il lavoro sul nuovo regolamento del Parco di Montelungo volta a rilanciare l'intera area anche sulla scorta del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno che ammonta 5 milioni di euro. L'atto va verso il Consiglio Comunale per l'approvazione. Sentiamo. Il nuovo regolamento per il rilancio dell'area di Montelungo va verso il voto dell'assise civica. La Commissione Consigliare Affari Generali, preseduta dal centrista Salvatore Incardona, ha completato l'attività dopo la necessità di ulteriori verifiche. L'atto sarà inoltrato già oggi agli uffici tecnici per il rilascio dei pareri. È l'ultima tappa prima dell'approdo in Consiglio Comunale. i componenti della Commissione hanno avuto un confronto con l'assessore Terenziano Di Stefano. A fine anno il Ministero dell'Interno, attraverso il programma Riqualificazione Urbana, ha confermato il finanziamento da 5 milioni di euro che coprirà il progetto di rigenerazione di Montelungo. Incardona parla di un iter non del tutto semplice, anche alla luce delle modifiche della legislazione in materia che pone attenzione alla tutela di numerose specie protette vegetali e animali. La Commissione ha comunque lavorato, arrivando ad una conclusione univoca, supportata anche dagli altri componenti, consiglieri Romina Morselli, Giuseppe Morselli, Valera Caccia e Gaetano Orlando. Anche l'audizione con il vicesindaco Di Stefano, come spiega Incardona, è servita a sviscerare in ogni sua parte gli atti legati al finanziamento da 5 milioni di euro disposto dal Ministero. La città potrà avere il regolamento del Parco di Montelungo. Diventa importante, soprattutto alla luce del finanziamento, da 5 milioni di euro ufficializzato lo scorso 31 dicembre. La Commissione aveva avviato l'attività per il regolamento già prima dell'ufficializzazione del finanziamento ministeriale. I contatti c'erano stati anche con i residenti della zona che si sono messi a disposizione, sempre nell'ottica di riqualificare una vasta area della città per anni rimasta quasi terra di nessuno. Sono trascorsi 5 mesi dalla dichiarazione di inagibilità del ponte stradale di Tenutelle. Il comitato dei residenti presieduto da Angelo Di Bartolo continua a ritenere che servano accertamenti più approfonditi, anzitutto con sopralluoghi dalla struttura che i residenti considerano da non abbattere. La soluzione prospettata dai tecnici del genio civile non convince per nulla il presidente Di Bartolo e i residenti convinti invece che la struttura possa essere salvaguardata senza procedere alla demolizione. Il comitato ha nuovamente scritto agli enti competenti e ai sindaci di Gelebutera la demolizione del ponte, invece per i residenti sconvolgerebbe l'intero agglomerato composto da circa 400 persone. Per il comitato sono a rischio non solo i residenti ma anche coloro che gestiscono attività imprenditoriali avviate nella zona al di fuori del ponte, infatti non ci sono altri collegamenti viari praticabili. Il comitato rivadisce che l'eventuale demolizione non trova fondamento da un punto di vista strettamente tecnico. I residenti chiedono anche un interessamento della rappresentanza politica della regione. Era l'ultima notizia e il nostro telegiornale termina qui. Per gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it Grazie per averci seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.